ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi andiamo a parlare di questo singflake pro che vedete qui accanto a me questo fantastico accessorio che ho lasciato per ultimo diciamo nella serie dei video in cui ho fatto un po la recensione personale la recensione devanza degli accessori che ho provato che ho comprato scusate perché l'ho sempre considerato come un accessorio così quasi da fare da ornamento da abbellimento di quello che è la mia postazione e in realtà mi sono sbagliato ragazzi perché questo accessorio il simflake pro della happy lab sim racing saluto eddy che me l'ha consigliato è davvero fantastico cioè veramente ragazzi per me è diventato quasi ho un obbligo per me per la mia guida safe avere questo accessorio ragazzi devo dire la verità che nei momenti diciamo più concitati della delle corse quindi le partenze le lotte eccetera eccetera questo accessorio vi dà la possibilità di avere un'informazione a colpo d'occhio immediato ne discutevo l'altra l'altra sera proprio con i miei compagni di squadra in cui uno in particolare Aulo che saluto mi diceva guarda io mi distraggo sempre ogni volta per guardare i tempi eccetera eccetera e parlavamo di dashboard parlavamo appunto di questo tipo di accessorio e lui ne ha una bellissima poi in un volante spettacolare e gli ho detto guarda bisogna sfruttare questi accessori che abbiamo comprato e gli ho parlato del simflake pro dicendo guarda io ad esempio per quanto riguarda evitare collisioni ed altro e soprattutto le bandiere c'è questo simflake pro che è veramente fantastico ed ecco perché voglio condividere con voi la mia esperienza perché oltretutto è un accessorio che è a livello di prezzo molto accessibile ragazzi di listino costa 85 euro per una un accessorio che è composto da una matrice di 64 led rgb versatile con una composizione con questo alcantara che lo che lo ricopre con un dla di altissima qualità e ovviamente personalizzabile per quanto riguarda le informazioni tramite simab le funzioni le principali funzioni di tacchia sono segnare darvi l'indicazione delle marce flickerare quando ci sono degli avvertimenti importanti come ad esempio siete fuori giri o attenzione sulla sinistra o sulla destra c'è una macchina molto vicina le bandiere blu flickera che non potete assolutamente mancarle e la bandiera gialla in particolare in cui vi evita di ritrovarvi in sala diciamo debriefing con la direzione di gara per l'esperienza che ho di organizzazione vi devo dire la verità che chi avesse avuto se ci fossero stati più simfly pro a portata di mano ma in generale questo tipo di accessorio per guidare safe avremmo avrei discusso molte ore di meno di incidenti quindi ragazzi io personalmente ritengo che siccome è un qualcosa di molto accessibile vi può veramente dare una mano per in un colpo d'occhio a dirvi che cosa sta succedendo perché parliamoci chiaro ragazzi molte volte siamo talmente concentrati su quello che stiamo facendo che non ci rendiamo conto che c'è l'auto alla nostra destra o sinistra e soprattutto quando va nella parte morta del diciamo degli specchietti a volte non sappiamo proprio dove è situato e guardare meccanicamente un piccolo radar così al schermo a volte non è sufficiente questo accessorio vi dà la possibilità di dirvi guarda che c'è lì a destra oppure c'è lì a sinistra e oltretutto vi segnala come dicevo le bandiere e questo è veramente qualcosa di eccezionale ragazzi io non ho nient'altro da aggiungere se non dirvi che o eddy mi ha dato cinque codici sconto del 15 per cento per chi fosse interessato ovviamente per i primi cinque lo lascio qua sotto in descrizione spero che questo accessorio vi piaccia come piace a me perché veramente fantastico anzi dimenticavo c'è anche gente che se ne compra due di più e se ne mette dietro la postazione per fare sì per simulare i freni non so cosa serve cioè il freno quando si accende non so cosa serve però c'è gente che lo fa giusto per farvi capire quanto è versatile e quanto si possa programmare quindi ragazzi se questo accessorio vi è piaciuto pollice in su se volete una recensione completa tecnica di questo accessorio qua non esitate ad andare a visitare il canale di Mirko De Santis perché lui lo ha praticamente spogliato in toto per potervelo spiegare noi come al solito ci vediamo prestissimo ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale tanto è gratuito da Fabrice è tutto un abbraccio ciao